Sessore Febbo, nuovi fondi per le attività produttive della nostra regione, si vuole dare una nuova velocità all'Abruzzo? Due delibere che vanno in due direzioni, una delle grandi aziende, quindi progetti di sviluppo, progetti di innovazione, progetti importanti, insomma tante aziende grandi presentano progetti per oltre 600 milioni di euro, ne andiamo a finanziare in questa prima battuta perché il Ministero ci chiede la nostra compartecipazione quattro per importi rilevanti e soprattutto per occupazione rilevante ma soprattutto la seconda delibere è quella su cui ci teniamo molto perché è una risposta concreta a ciò che da mesi stiamo dicendo cioè in Abruzzo le piccole aziende soffrono di liquidità, non hanno la possibilità di accesso a credito e facciamo questa delibera con un nuovo bando che dà la possibilità a tutte le aziende di qualunque appartenenza, qualunque codice Ateco, compresi professionisti, possono accedere ad una parte a fondo perduto, una parte a tasso agevolato senza garanzie. Le risorse messe a disposizione in questa prima fase di questo progetto così innovativo, così importante, unico nella storia della nostra regione voluto da Fira e assolutamente sposato da questa giunta regionale sono di circa 4 milioni di euro. C'è intenzione evidentemente perché si ritiene lo strumento molto valido di potenziare nel proseguo del cammino questo fondo, le imprese potranno beneficiare da 35.000 a 120.000 euro massimo di contributo da parte dei fondi comunitari per il tramite della finanziaria regionale abruzzese, non c'è limite evidentemente all'importo dell'investimento che può avere qualsiasi tipo di somma da impegnare ma verrà finanziata nel limite dei 120.000 euro.